Ciao, io sono Marco Scrone e signore e signori, benvenuti nella Sky Exchange! Esatto, perché in previsione della fine dell'All The Mod, il vostro MK, cercate di andare in pareggio. Non vi preoccupate per le serie in attivo, perché la WeCraft ci sarà soltanto due volte a settimana, come d'accordo con i ragazzotti, altrimenti rascio troppo e esplode il server. E la serie sul server dei Patreon non è una serie davvero, esce ogni tanto. Quindi in realtà abbiamo la Tekken WeCraft, l'All The Mod che sta finendo, e questa Sky Exchange, che mi è stata consigliata da tantissimi, soprattutto perché hanno visto quanto io godevo con l'equivalente exchange, che dovrebbe essere un mix tra la Sky Block e l'equivalente exchange apposta. E per aprire le quest, per aprire le danze, ragazzi ci stanno le quest, è bellissimo. Belle le quest, perché ogni tanto uno YouTuber di Minecraft tecnico entra in tutto il mondo e fa Adesso che cazzo faccio? No, ho trent'anni, invece no, le quest sono qui e ti dicono Ehi, prendi della dirt! Come prendiamo della dirt? Jump and break, get your first dirt. Su che cosa? Su che cosa devo... Non ho capito. Su questo? Ah, devo saltare? Sì? Oh mio Dio, non si rompe! Oh mio Dio! No, dove vai? Perché partono? No! No! No, vi prego, qualcuno... Oh, l'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! Questa è completata! Questa è completata, vediamo? Sì! Claim cosa? Ragazzi, non... 4 dirt ci dà la Philosopher's Stone. Allora, se non ho capito male, questo blocco è magico. Quindi, se io faccio così... Uuuuh, ma io me lo devo segnare, sto... Sì, ho capito, parte in tutte le direzioni, non è quello mio, scusa. Oh, ecco l'altro pezzo di dirt, ecco l'altro pezzo di dirt. Allora, quello che voglio fare... È... Fare così! Non ci sono... Non ci sono riuscita, non ci sono riuscita. C'hanno pure tre pezzi di... Boh, qual è? No, aspetta, io spono qui, quindi è questo. Yes! La ci riprovo. Mamma mia, ce l'ho fatta! Mamma mia, ce l'ho fatta! Ok, adesso vi spiego perché. Faccio così. Poi ne prendo un altro. Ok, era questo. Adesso rompo questo qui. Oh! E stando più vicino, tecnicamente dovrei prendere... No! Il cazzo più vicino, prendo. Non funziona. S'è rotta! Ok, due pezzi. Tre pezzi. Dai, eh. Quattro pezzi. Sei cinque pezzi. Ragazzi, sono un genio. Sono un genio. Serve un pochino da se sta dentro per essere un genio. Ma poi dopo diventi un genio. Bravo, bravo. Marcus Crono, molto bene. Oppela. Identifichiamo questo come il nostro pezzo di dirt magico. E voilà. Uh! Mi scaccia. Oddio, c'ho una paura. Aiuto. 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 Non so come funziona il lancio degli oggettini di Minecraft. Però credo che se io faccia... Una cosa del genere... Forse le probabilità che rimane il cubetto sono di meno. Sono di più. Wow! Le fa spaccare sto inizio. Davvero, è totalmente insolito. Prendiamone un pochino. Così poi prendiamo anche l'equivalence. Pronto? No? Sì. Yes, very well. Vediamo un po' adesso. Eh, adesso ci finisce... La maggior parte delle volte. Ci finisce addosso. Yes! Sono molto, molto, molto felice. E se facessi così? Eccolo! Eccolo! Eccolo, signore, signore! Eccolo! Era molto meglio così. Allora, abbiamo i nostri pezzettazzi di dirt. Andiamo a prendere una philosopher. Wait, wait, wait. Wait. Detect? Detect? No? Oh my gosh. Sì? Posso... No? What the fuck vuoi? Scusami! Guardate la roba! Ma c'è pure l'ex nilo! Dai! Old ship for advanced item. Sì, però... Amico mio. Ce le ho. Ce le ho. Vedi? Guarda, quattro di dirt. Queste sono quattro di dirt. E quindi io ho... Posso fa prend... No, perché non funzioni? Fermi tutti? Ho totalmente capito male. Lui non vuole la dirt. Fermi, 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 fermi. Lui dice che devo avere la philosopher stone e mi da quattro di dirt. Come reward. Cosa? E come faccio la philosopher stone? Philosopher stone. Vediamo un po'. Con quattro... No, non ci credo. Così... Così faccio la philosopher stone. Ti è sabbia. Forse sabbia per il caso di no. Perché ecco... Ok, ho la philosopher stone che tra l'altro se non sbaglio dovrebbe essere anche una grafting table. No. Ha deciso di no. E ci dà quattro cubi di dirt. Ma c'ho il coso infinito! Perché mi dovresti dare quattro cubi di dirt? Allora... Trasmuta il grass block quando è dirt. Vabbè, trasmutiamo il coso in grass block. Break the grass block with a fill of forest stone in hand. Quindi faccio così. E come potete vedere... Uh! Ce l'ha dato! Ce l'ha dato! Quindi andiamo a fare... Una bella piazzoletta qui. Hop, hop, hop. E hop e hop. L'unica cosa che adesso io sono uno stronzone... Perché ho fatto la piazzoletta così. Che succede se... Ogni volta devo fare così. Però guarda, me ne da tanti eh. Tec. Però se non scendiamo di uno... Poi quando vado a rompere me la prendo under il ciappetto. Quindi facciamo una cosa fatta... Very good. Pronto, pronto, pronto. Pronto! Pronto! Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Signori, già ci abbiamo... Eh, no, questo no. Porca puttana Marcus Corona che non metti bene i buchi. Eh, molto arrabbiato. E abbiamo un po' di grano. No, che è questo? Quello è verde. Allora. Ok, ok. C, claim. Questa mod mi solletica. Compressed send. Shift. Clicking on running next... Eh, to... Ah, c'è quella delle puzzette. Ok. Also you can acquire one meal by breaking compressed sand block with a philosopher's stone. Non ho capito. Le passo. Mio marito. Allora, facciamo così. Così, così. E così. Ci mettiamo questo. E vediamo se funziona. Abbiamo un albero signore e signori Albero che può diventare A cose Albero alberoso Ok d'accordo Compressed and send Non ho capito che c'è tra questo Ma va bene va bene va bene lo stesso Vabbè rompiamo No aspetta facciamolo diventare No facciamolo diventare Rompiamo questo qui così ci facciamo Grafting table Thank you so much Ok vediamo se c'è No non c'è Grazie grazie Noi ti odiavamo Ti odiavamo tanto Mia stupidissima Think and construction Ok abbiamo due di questi Facciamo il legno slavoratos Facciamo le slab E facciamo così così No mi manca un pesettino E' vero Qui si sdroppa Ecco quella è l'unica cosa positiva E' bellissima E' noiosissima Tinkers Andiamo a farne un altro E adesso potremmo fare il Barrellino Dov'è il nostro barrellino Quello Barrell Cos'è l'ex nilo omnia La voglio Cosa diavolo è Attenzione Questa è completata E climbo una bella splash water bottle No sta piovendo O forse è fatta apposta Non lo so Io mi prendo l'acqua Secondo me è fatta apposta Che dite Cioè si è fatta apposta E' spettacolare E' davvero Davvero spettacolare Andiamo a prendere Questo No aspetta Se rompo il legno Poi non posso fare Il mio amico Stichettoso Com'era? Com'era? Com'era così? Yes E quindi non mi basta Vabbè Dobbiamo Sto facendo un sacco di cose Senza Senza volerlo Ragazzi Mi dispiace che Non vediate quasi un cazzo di niente Io sto presentando Sto facendo così Perché così Prendo i saplinghini Crooked man Crooked man Un inizio estremamente più veloce Della nostra vecchia Cosa Come si chiama Sky Factory Andiamo Avvedenzo Sì Mi dai dei vermi Denghi Poi vuole un mystic bucket Ok Putting dust into a barrel Full of water Will result in a clay block Aha E la dust come la prendo? Ah con legno faccio il coso E poi posso prendere il secchiello No You get the dust by breaking sand with a hammer Ok Però questo non è un secchiello Chicco Vabbè Lui non lo sa Facciamo questa qui Dei blocchi di sand Sendone Anche c'è Io qui Oddio le foglie che diventano No cambiano soltanto Il sospetto e colore Eccoci qua signore e signori Ho fatto nove pezzi di sand Ovviamente con la filosofa stone Andiamo a fare quella compressata Bada 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 bim Bada bada bim Yes yes thank you E poi con l'ultimo pezzo di tozzo di leg Abbiamo fatto un martellozzo E come potete vedere Esplode E non forse la compressed sand non è della stessa mod dell'ex Nilo già e non posso neanche climarlo, sono molto arrabbiato moltissimo davvero io che da qua devo rifare tutto quanto ah no i blocchi ce li ho devo ritrasformarli tutti quanti uno, due tre, quattro, cinque, sei sette, otto e nove farò male? si farà male però va bene non fa niente ragazzi vi metto a ricollezionare i blocchettini di sand sperando che questi non volino via sperando che non so come quell'altri e fino purtroppo a quando non avremo un po' di legna e una fornace per fare le torce non possiamo far crescere quel bel alberello forse ho fatto una cazzata a fare qualcosa laggiù aiuto mamma ecco qui adesso molto better siamo a cinque sei sette otto e nueve e nueve molto good allora lo rifacciamo oppela prima mi prendo la mia ricompensa vorrei che tu mi tessi i tre bombilla li voglio eeeh si e poi posso rompere questa con la philosopher's stone e mi da del bombilla ok impaziente come questo andava fatta che figa che figa che figa che figa che figa ok il bicchiere il bucket si fa con la porcellana la porcellana si fa se non va del razio con sand oppela e bone meal vediamo un poco no no mi sa che si fa con dust e bone meal quindi prendiamo la sand e trasformiamola in dust to dust se non sbaglio a questo punto mi viene da pensare che no mi sto sbagliando esatto prendevo questa clay ottimo direi dopo la trasformavo col bombilla oppela viene qui da papà ci mettevo il bombilla tun 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 e non succedeva assolutamente niente ma come cazzo porcellana uuuh vuole lash what the fuck sorry guys devo bruciare gli stick ma io non ho le fornaci la cobblestone ancora non posso fare non posso fare non posso non vi dire che devo fare ah si secondo me si vediamo un po' si go to hell oddio di già extension ba 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 du 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 bella tutta questa roba la voglio bella no signori 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 fermiamoci qui fermiamoci qui ci sarà da farmare forte e soprattutto con facilità perché effettivamente con l'equivalent si va molto più veloci e sarà una serie sciallissima tranquillissima spero che vi piaccia e spero di fare il tempo a caricarla per luna non credo al massimo scusatemi di dare ritardo oh ci vediamo presto lasciate un pollicione in su per supportare il vostro marcos cron che vi porta sempre serie nuove grazie a quelli che me l'hanno suggerito su i video sotto i video di all the mod io vi sal lustro bella per voi grazie a tutti